Cosa pensate abbia spinto Papa Francesco a menzionare un nome così infame durante il suo Angelus? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nel cuore della città del Vaticano, all'ombra della maestosa Basilica di San Pietro, il mondo attendeva ansioso l'Angelus Domenicale, uno dei momenti più sacri e attesi nella vita di Papa Francesco, il carismatico leader spirituale della Chiesa Cattolica. Ma questa volta, l'Angelus aveva un sapore di mistero e suspense, dato che circolavano voci sulla possibile menzione di un nome noto a tutti, Matteo Messina Denaro. Papa Francesco, con la sua umiltà e il suo approccio aperto e inclusivo, era un Papa amato da milioni di fedeli in tutto il mondo. Il suo pontificato aveva portato significativi cambiamenti nella Chiesa, concentrando l'attenzione su questioni sociali come la giustizia sociale, l'ambiente e la pace, oltre a promuovere la tolleranza e il dialogo interreligioso. Dall'altro lato, Matteo Messina Denaro era un nome che incuteva timore nei cuori di molti italiani. Era stato a lungo considerato uno dei boss più pericolosi della mafia siciliana, con un passato oscuro che includeva il coinvolgimento in omicidi, traffico di droga e estorsioni. La sua evasione dalle forze dell'ordine lo aveva reso una figura enigmatica e temuta, con molte leggende e miti che circondavano la sua persona. Ma cosa poteva legare queste due figure apparentemente disparate? Era possibile che Papa Francesco avesse fatto riferimento a Matteo Messina Denaro durante l'Angelus? Era questa una profezia religiosa o semplicemente un caso di speculazione mediatica? L'Angelus, un momento di preghiera quotidiana che risale al XIV secolo, aveva sempre occupato un posto speciale nel cuore di Papa Francesco. Si svolgeva puntualmente alle 12 del mezzogiorno, segnando la tradizionale pausa nelle attività quotidiane per la preghiera e la riflessione. Durante questo breve rituale, il Papa recitava tre Ave Maria, intervallate da versi della preghiera dell'Angelo del Signore. L'Angelus era un momento di comunione spirituale con i fedeli in tutto il mondo, trasmesso in diretta televisiva e via radio. Nel cortile del Palazzo Apostolico, migliaia di fedeli si erano radunati per assistere all'Angelus di Papa Francesco. L'aria era pervasa da un senso di sacralità e attesa, mentre la folla si preparava a ascoltare le parole del Santo Padre. Papa Francesco, il 266esimo Papa della Chiesa Cattolica, era nato in Argentina con il nome di Orge Mario Bergoglio. Era diventato Papa nel marzo 2013, portando un vento di cambiamento nella Chiesa. La sua scelta del nome Francesco era un omaggio a San Francesco d'Assisi, noto per la sua umiltà, l'amore per la natura e la dedizione ai poveri. Questo nome aveva segnato l'inizio di un papato incentrato su temi di misericordia, giustizia sociale e dialogo interreligioso. Papa Francesco era noto per la sua spontaneità e la sua capacità di connettersi con le persone di tutte le età e provenienze. Durante l'Angelus, il Papa solitamente affrontava temi importanti per la Chiesa e la società, offrendo riflessioni spirituali e messaggi di speranza. Matteo Messina Denaro, al contrario, era una figura oscura e temuta. Nato in una famiglia legata alla mafia siciliana, era cresciuto nel mondo dell'illegalità e della violenza. Era stato implicato in numerosi crimini, compresi omicidi e traffico di droga, guadagnandosi una reputazione come uno dei boss più pericolosi della mafia italiana. Il suo aspetto imponente e la sua aura di mistero avevano contribuito a costruire leggende sul suo conto. Ciò che rendeva Messina Denaro ancora più enigmatico era la sua abilità di eludere la giustizia per anni. Era stato inserito nella lista dei criminali più ricercati d'Europa e nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine per catturarlo, era rimasto in libertà, diventando una sorta di mito vivente nel mondo del crimine organizzato. La sua figura oscura e la sua abilità nell'evitare l'arresto lo avevano reso oggetto di ammirazione per alcuni e terrore per altri. Mentre le campane della Basilica di San Pietro risuonavano nel silenzio del cortile durante l'Angelus, il Papa sembrava diverso dal solito. La sua voce, solitamente calma e misurata, aveva acquisito una nota di profonda serietà. Con attenzione silenziosa, la folla ascoltava le parole del Papa mentre si avvicinava al punto culminante del suo discorso. E fu in quel momento che Papa Francesco pronunciò il nome che aveva catturato l'attenzione del mondo intero, Matteo Messina De Naro. Il Papa aveva menzionato il nome del noto criminale durante il suo Angelus, facendo emergere una miriade di domande e speculazioni. Non era chiaro il contesto o la ragione di questa menzione apparentemente inaspettata. Subito dopo l'Angelus, i media di tutto il mondo si precipitarono per coprire l'evento. Le reazioni furono immediate e variate. Alcuni vedevano la menzione come un segno divino, una profezia religiosa che collegava un uomo di fede come Papa Francesco a un criminale di fama internazionale come Messina De Naro. Altri invece pensavano che si trattasse di un errore o di un fraintendimento, sottolineando l'importanza di ottenere ulteriori dettagli prima di trarre conclusioni. L'analisi del riferimento a Matteo Messina De Naro suscitò discussioni accese e teorie contrastanti. Alcuni esperti di religione suggerirono che il Papa potesse aver fatto un appello alla redenzione e alla conversione, invitando persino il noto criminale a ravvedersi e abbandonare la sua vita nel crimine. Altri, invece, sostenevano che il riferimento potesse avere un significato più ampio, collegando il male rappresentato da Messina De Naro alla necessità di affrontare il peccato e l'ingiustizia nel mondo. Le reazioni del pubblico furono altrettanto diverse. Molti fedeli cattolici vedevano la menzione come un segno di compassione e speranza, mentre altri erano scettici e temevano che questa inaspettata attenzione potesse glorificare involontariamente il criminale. In conclusione, il riferimento di Papa Francesco a Matteo Messina De Naro durante l'Angelus aveva scosso le fondamenta della discussione pubblica e della riflessione religiosa. Mentre la Chiesa Cattolica cercava di chiarire il significato e l'intento di questa menzione, il mondo rimaneva in attesa di ulteriori sviluppi. Era possibile che questa apparente profezia religiosa avesse effetti duraturi sulla lotta contro il crimine organizzato e sulla fede dei credenti? Solo il tempo avrebbe risposto a queste domande, mentre il mistero continuava a circondare questo evento senza precedenti. Grazie per averci seguito, alla prossima!